Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Apple sta per lanciare, si dice, due nuovi prodotti. Uno arriverà probabilmente nel 2019 e l'altro arriverà nel 2020. E il secondo, beh, potrebbe essere un grosso ritorno di fiamma in un mondo in cui ci hanno provato un po' tutti ma nessuno ha convinto davvero. E si sa, Apple di solito fa questo. Arriva dopo ma convince. Partiamo subito dopo la nostra sigla. Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questa volta non vi voglio fare attendere, quindi vi parlerò subito del prodotto che potrebbe arrivare il prossimo anno. Apple ha deciso infatti di riprendere una tipologia di prodotto che non ha convinto. Un qualcosa che viene e va nel mondo della tecnologia. Sono ormai anni che si parla dei visori per la realtà virtuale o per la realtà aumentata. E beh, torna questa indiscrezione secondo cui Apple potrebbe essere al lavoro su un prodotto di questo tipo fatto bene e che vedrà la luce soltanto nel 2020. In realtà la presentazione di questo prodotto potrebbe avvenire a settembre o a ottobre con il lancio poi nel 2020. Ma insomma, sembra che Apple stia finalizzando i lavori. La cosa interessante è che su questo prodotto non è trappellato ancora assolutamente nulla. Quindi oltre queste informazioni non abbiamo visto dei leak veri e propri come succede magari con gli iPhone, con gli iPad, con gli Apple Watch. Ma si sa soltanto che Apple potrebbe essere al lavoro. Questo dispositivo chiaramente sarà un visore, quindi immaginate come sarà nelle sue forme e dove si metterà. Chiaramente si metterà in testa e avrà più o meno l'aspetto di tutti gli altri visori. Ma secondo quanto riporta l'analista solito Ming-Ci Kuo, questo prodotto un po' come l'Apple Watch sarà fortemente dipendente dall'iPhone. Quindi non potrà essere sfruttato senza avere anche un iPhone. Ci sarà una sorta di attivazione un po' come accade con l'Apple Watch in cui sarà necessario l'iPhone e appunto sarà parte integrante l'iPhone. Quindi mi viene da pensare che comunque sarà un visore passivo in cui forse bisognerà inserire l'iPhone o che potrà essere in qualche modo controllato dall'iPhone. In ogni caso lo smartphone di Apple giocherà un ruolo indispensabile in questo nuovo prodotto. Ma cosa permetterà di fare questo visore? Secondo quello che riporta Ming-Ci Kuo l'idea è quella di avere a disposizione una sorta di display per riprodurre e renderizzare i contenuti provenienti dall'iPhone che potrebbe essere collegato sia con cavo sia anche in wireless. Quindi una sorta di soluzione allo schermo, alla Apple TV, intesa come TV fisica che Apple non ha mai prodotto. Quindi magari potrebbe avere un suo software questo prodotto e avere anche la compatibilità con lo smartphone, non lo so. Ok ma adesso parliamo del prodotto che con ogni probabilità vedremo quest'anno e verrà anche reso disponibile quest'anno di cui abbiamo invece dei leak veramente veramente succosi. Infatti a dircene sempre di più sui nuovi prodotti Apple è sempre la stessa Apple che nella nuova beta di iOS 12.2 che io ho installato sul mio dispositivo si è fatta scappare un'indiscrezione davvero davvero molto interessante sul prossimo iPod Touch di settima generazione. Non è un segreto che Apple stia lavorando a un prodotto di questo tipo, ve ne ho parlato più volte, ma adesso iOS 12.2 sembra confermare l'esistenza di un prodotto che da quello che si legge proprio dal sistema viene indicato come un iPod. Infatti guardate questa immagine qui, sulla sinistra vedete il vecchio iPod Touch e infatti viene scritto HLS iPod. Sulla destra invece c'è sempre HLS iPod 2 e l'icona è totalmente diversa, completamente priva di cornici. Se mi seguite da un po' ricorderete che questa cosa è avvenuta intanto con il primo iPhone X. Fu trovata direttamente nelle impostazioni di Xcode, che è il programma che permette di sviluppare le app da poi diffondere su App Store. Fu trovata un'icona dell'iPhone X con la tacca. E la stessa cosa poi è accaduta con l'iPad, fu trovata l'icona dell'iPad soltanto con le cornici simmetriche. Beh, da quello che si vede il prossimo iPod Touch potrebbe avere esattamente lo stesso design del nuovo iPad Pro con delle cornici totalmente ridotte, senza tacca e chiaramente senza tasto home. Quindi un prodotto pronto per il 2019 con tutti i canoni estetici e funzionali che ormai sono previsti. A livello estetico in realtà forse l'iPod Touch di settima generazione potrebbe essere addirittura più bello dell'iPhone perché chiaramente non solo non avrà le cornici ma non avrà neanche la tacca. Questo poi vuol dire che non ci sarà il Face ID magari e che sarà, che ne so, necessario il riconoscimento o con l'impronta da qualche parte oppure banalmente il codice di sicurezza. Forse non mi strapperei i capelli se sul nuovo iPod Touch ci fosse da inserire il codice ogni volta. Meglio un dispositivo bezeless pensato per il gaming perché l'iPod Touch è anche sempre stato pensato per i più giovani che magari vogliono un dispositivo iOS non dispendioso come un iPhone per giocare. Quindi potrebbe essere già molto interessante, fa niente, si metterà il codice, tanto poi tutti mettiamo 1, 2, 3, 4. Quindi ragazzi questo sì potrebbe essere il nuovo dispositivo che Apple lancerà quest'anno. Quindi facendo due calcoli, quest'anno oltre ad iPhone e ad iPad e ai Mac e all'Apple Watch e alla Apple TV che sono già 5 prodotti, Apple potrebbe presentare un visore e potrebbe presentare anche un nuovo iPod Touch. Sul visore qualche dubbio ancora ce l'ho, però sull'iPod Touch sono molto molto curioso. È stato uno dei miei primi dispositivi Apple, ci sono molto affezionato all'iPod Touch e diciamo che l'iPod Touch di sesta generazione è lì veramente da anni, quindi ci sta, ci sta assolutamente un aggiornamento e speriamo che arrivi un bel prodottino interessante che sicuramente poi vi vorrò portare qui con una recensione e con degli approfondimenti perché secondo me sarà veramente un gioiellino e ormai sembra confermato, ci sarà un nuovo iPod Touch. Ma allora se anche voi state aspettando un iPod Touch di settima generazione come ve l'ho descritto lasciate un bel like a questo video e per nuovi video come questo iscrivetevi al nostro canale, seguiteci su tutti i social network che trovate linkati qui sotto in descrizione e in descrizione trovate anche il sito internet da cui io recupero tutte queste informazioni di cui vi parlo in video cioè iPhoneItalia.com, il nostro sito internet linkato qui sotto in descrizione. Se poi volete seguire me su Instagram allora lo username è come al solito qui alla mia sinistra e noi in ogni caso ci risentiamo molto presto con un nuovo video. Ciao a tutti da Andrea Cervone per iPhoneItalia.com Ciao a tutti!